Il Parma del centenario punta tutto sull'esperienza, non è disposto ad aspettare le incertezze dei giovani. Ecco allora che Cipsa era stato rispedito al Sassuolo per puntare tutto su Walter Gargano. Sarà il 29enne centrocampista della nazionale uruguayana e il nuovo muro della mediana crociata. Ha scelto Parma per riscattarsi e disputare una grande stagione anche in vista dei mondiali brasiliani del prossimo giugno. L'innesto di Gargano potrebbe dirottare ora in panchina il cileno Jaime Valdés, sul quale è tornato con insistenza nelle ultime ore il Torino. Difficile però che Valdés possa partire anche perché piace molto a Roberto Donadoni. Era stato lui infatti a ritagliargli il ruolo attuale di regista. Altra opzione tattica potrebbe essere quella di Gargano e Valdés insieme con l'esclusione di Marco Marchionni. Staremo a vedere. Gargano certo rappresenta la dimostrazione delle ambizioni del Parma. È un giocatore come detto esperto e anche costoso. Il mastino sudamericano inoltre è un ulteriore rinforzo per tentare di lottare per un posto in Europa League o comunque per a disputare un campionato importante a ridosso delle aree che contano. Attenzione però, il nuovo acquisto costituisce anche un'ulteriore responsabilizzazione per mister Donadoni. Il Parma, insomma, quest'anno deve ottenere risultati e possibilmente piacere. Prestazioni scialbe come quelle di domenica scorsa contro avversari come il Chievo non saranno più ammesse.